connesso a stefania che è la nostra prossima speaker per cui per andare in continuità con questo percorso formativo che ormai dura da otto settimane di live direi stefania buongiorno è strano incontrare tutte queste persone in video dopo che le sentite solo telefonicamente ormai non ci ho ancora fatto abitudine nonostante tutte queste ore passate di fronte ad uno schermo stefania niente ti do il benvenuto in questa piattaforma ti invito a collegare il tuo schermo e poi ti lascerei libera di portare il tuo contenuto senza 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 freni va bene grazie l'unico freno che ti pongo sarà alle 11 50 dove ti fermerò per le domande del pubblico se ne saranno arrivate così da interagire anche con chi sta guardando va bene allora ci vediamo dopo allora parto dunque mi chiamo sefania lovaglio e mi occupo di comunicazione online offline per chi svolge la libera professione e per la didattica attenzione attenzione o win it is e il titolo che ho scelto per questo speech e parto da un flashback per spiegarne il perché e introdurre il tema di oggi in principio era il tip stock di rinascita digitale con il format di dieci minuti dieci slide che avevo titolato vita da professionista o win it is e che avevo dedicato alla che cosa alla risposta di che cosa abbiamo bisogno nella libera professione e rispondevo che abbiamo bisogno di comunicazione prima di tutto quindi con noi e con gli altri e suggerivo tre strumenti concetti chiave la mucca viola il piano di comunicazione e l'an etichetta affinché si possono si potesse creare chiarezza focalizzare l'attenzione all'interno di un approccio del meno e meglio in conclusione di quello che era la citazione di il web non si limita a collegare macchine con le persone e rimettere a fuoco la propria vita in un mondo pieno di distrazioni e con questo fine del flashback barra introduzione e oggi quindi è una sorta di sequel e arrivo a oggi con questo diciamo proseguimento in cui ho pensato di fare una passeggiata più tranquilla all'interno di quei tre concetti chiave e dedicare un approfondimento al tema dell'attenzione che era venuto fuori durante quel breve speech così al posto di aggiungere ho raccolto e ho unito insieme in formato sintetici per focalizzare l'attenzione attenzione che prendo da tre cani la definizione nella sua etimologia di rivolgere l'animo e che per definizione è l'atto di rivolgere e applicare la mente i sensi a un oggetto quindi una parola collegata al discorso di applicazione concentrazione cura impegno e nella sua forma plurale anche al concetto di premura e di cortesia al contrario di distrazione quindi distrarre il verbo che significa tirare in uno o più parti con forza in modo da stendere o lacerare o più spesso staccare volgendo o indirizzando altrove l'attenzione rivolgerla ad uno ad un uso diverso da cui per cui era stata destinata arrivo così al primo strumento che avevo proposto la scorsa volta per aiutarci a focalizzare l'attenzione nostra e degli altri la mucca viola dicevo era il degno di nota che io collegavo al discorso del perché c'è un nostro perché interno perché facciamo così quello che facciamo e un perché esterno perché dovrebbero sceglierci tutti diciamo i potenziali consulenti e oggi per il sequel della mucca viola ho portato degli esempi ho portato questo tratto dal libro la mucca viola ha cambiato la latta le latte di vernice sono pesanti difficili da trasportare difficili da chiudere difficili da aprire difficili da manovrare per versare il contenuto e davvero poco divertenti oltre a incrementare le vendite la nuova confezione ha permesso di aumentare la distribuzione un altro esempio di mucca viola ce lo fa vedere Jack Daniels nella sua pubblicità dove appunto fa vedere che ha cambiato la bottiglia perché la mucca viola può essere quel degno di nota all'interno della dimensione di un prodotto della forma di un prodotto o della modalità di erogazione di un servizio ho portato ancora un altro esempio di mucca viola la mucca viola di Harvey che faccio presentare da lui grazie a tutti ok allora noi possiamo fare come Harvey a patto che la nostra identità digitale sia e rimanga il più vicino possibile alla nostra vera identità perché è importante ricordare che la costruzione del personal branding non significa creare un personaggio falso ed effimero ho pensato anche alla mucca viola di questo periodo e ho fatto l'esempio di Armani Armani in una lettera aperta che forse avrete letto scrive il momento che stiamo attraversando il turbolento ma offre anche un'opportunità unica di sistemare ciò che nel sistema è sbagliato recuperando una dimensione più umana per ridare valore all'autenticità e in un'intervista che segue quella lettera scrive risponde alla giornalista che chiede quale crede sarà la chiave per far ripartire gli acquisti Armani risponde credo da sempre nel concetto di eleganza senza tempo non è solo un codice estetico ma anche un metodo per fare abbigliamento che a sua volta suggerisce un modo preciso da acquistarlo e cioè per farlo durare Arrivo così al secondo strumento che è il piano di comunicazione che comprende il piano editoriale quindi legato ai contenuti la loro scelta e la loro organizzazione e il piano dei media legato agli strumenti affinché siano mirati e coordinati Oggi in questo sequel sul piano di comunicazione aggiungo, faccio più che altro un focus su questo aspetto il fatto che bisogna capire chi sono gli acquirenti e poi risolvere il loro problema e a questo fine vi propongo lo strumento dell'Empathy Map uno strumento per farci domande sulla nostra utenza oltre le categorie diciamo più tradizionali di sesso, età, città, professione e ci facciamo domande come sentire più reale quindi ci chiediamo che cosa vede intorno la persona qual è la sua routine quali sono gli spazi in cui si muove chi cosa la condiziona che cosa la preoccupa o la rende felice e questo perché all'interno del piano di comunicazione io vedo questo strumento come un strumento aperto e flessibile capace quindi di accogliere il nuovo e il cambiamento e allora per esempio nella situazione che stiamo attraversando quindi una situazione in cui se li cammina per strada senza pensare a niente e sono 300 euro in questa condizione è utile pensare a nuove strategie che riguardano le nostre aree di azione i nostri spostamenti, i luoghi di lavoro, di intervento che rispondono a bisogni e necessità più reali del contesto ci fanno riflettere sulle modalità magari immaginare nuove modalità di comunicazione più efficaci ed efficienti tarate sull'individuo e ci fanno magari anche riflettere sull'organizzazione ottimale del nostro lavoro eventualmente anche sulle nostre tariffe magari non con questi aumenti arrivo così al terzo strumento che è quello dell'anetiquette che abbiamo visto essere una parola che unisce la parola inglese network, quindi rete e la parola francese etiquette quindi buona condotta ed è l'insieme di linee guida di comportamento per l'uso consapevole della rete e per la comunicazione che avviene tramite email, social, forum, blog e spazi wiki che sono tutti quegli spazi in cui le persone possono contribuire con i loro scritti, con i loro contenuti abbiamo visto la scorsa volta che è nata nel 95 per opera di una comunità internazionale dagli ITF e oggi per Cinco Sossico e sulle etichette porto questo il tuo sguardo infernale divino versa confusi il beneficio e il delitto e chi si può per questo paragonarti al vino una volta mi sedevo qui mi leggevo qualche poesia qualche romanzo c'è la serenità, armonia concentrazione adesso invece come sentite mi arrivano avvisi, notifiche ecco l'ultima che mi è arrivata c'è questa notifica che è di una certa Maria Pezzolata alla quale piace una fotografia di Guido Bozzoni che piscia su un muro dove è scritto Juve Merda e con cui capite che se uno magari sta leggendo un po' dell'errore una cosa del genere potrebbe essere devastante è così diciamo per quanto riguarda la netiquette anche nella situazione attuale sta venendo senza dare questo nome quindi senza chiamarla per nome però ci si sta accorgendo dell'importanza di avere delle linee guida online porto per esempio questo titolo di giornale questo estratto dove si parla di Whatsapp si dice che il classico gesto di inoltrare un contenuto che abbiamo ricevuto prodotto selezionando dalla lista 5 contatti sarà limitato alla scelta di un solo contatto per evitare il propagarsi di false informazioni a livello sanitario e poi a proposito sempre dell'etichetta in questo periodo ho portato questa vignetta un po' per alleggerire allora arrivo al discorso dell'attenzione perché ora mi soffermo sul rapporto che c'è tra la tecnologia e l'attenzione perché l'utilizzo critico è un problema critico per l'economia dell'attenzione digitale in molti casi le caratteristiche delle nuove tecnologie sono funzionalità progettate con cura creando una particolare tecnologia adatta a catturare la nostra attenzione e a favorire un uso nocivo del prodotto e così come Sean Parker il presidente fondatore di Facebook nel 2017 ha detto apertamente a proposito dell'ingegneria dell'attenzione dice il ragionamento con cui progettavamo le applicazioni era come possiamo conquistare al massimo il tempo e l'attenzione consapevole degli utenti per farlo dobbiamo darti un colpetto di dopamina ogni tanto quindi il neurotrasmettitore che è collegato alla sensazione del piacere e della ricompensa facendoti sapere che qualcuno ha gradito o commentato un'autofoto o un post o una qualsiasi altra cosa ora non è così distante da effettivamente quello che capita tutti i giorni e per me è venuto in mente questo film sono sempre stato convinto che gli esseri umani debbano migliorarsi qui a The Circle possiamo esprimere tutto il nostro potenziale usando al massimo le nostre capacità non esistono problemi che non riusciamo a risolvere le possibilità sono infinite la sua transazione era di 78,13 e il suo conto era di 78,31 grazie ti hanno assunto a The Circle ciao ciao May come stai? e Jared sarai il tuo tutor quando ho iniziato ci ho messo settimane per capire credimi vai alla grande May è con noi solo da pochi mesi ma ha fatto subito grandi cose allora May pensi che il tuo comportamento sia cambiato sapendo di essere osservata? abbiamo sempre amato viaggiare abbiamo visto un sacco di cose e ora la nostra realtà è filtrata da tutto questo ciò che è registrato viene conservato e analizzato qui possono usarlo come meglio credono hanno in mano la nostra vita non immagini di cosa sono capaci queste persone perché conoscere è un bene fermatela! ma sapere tutto è meglio allora May, c'è qualcosa che ci vuoi dire? ok, io non so se abbiate letto questo libro io non l'ho letto, avevo visto solo il film è effettivamente interessante vedere alcune dinamiche di cui perdiamo il controllo quando ci avviciniamo ai social o a internet in generale senza, c'è un aspetto di consapevolezza per cui come il minimalismo digitale il libro da cui ho tratto gli esempi di prima effettivamente l'idea è quella proprio che perdiamo il controllo cioè ci attiviamo online per alcuni servizi o per stare in compagnia degli amici e così via e poi in realtà perdiamo un po' questo controllo e tutto questo in qualche modo è studiato cioè a monte c'è un'ingegneria un'economia dell'attenzione che spinge in quella direzione ora per non fare catastrofisti per parcondicio ho inserito anche quest'altro video questa è la strada che sto facendo ragazzi dietro di me il sole guardate bellissimo internet è un megafono per mia nonna internet era una droga instagram mi ha cambiato la vita ho sempre lavorato nell'informatica quando era bella no ragazzi che vi devo dire per sei mesi sono stato un robot internet mi ha dato una nuova possibilità e da lì ho deciso con tutta la mia forza che avrei cominciato a camminare dopo quello che è successo qualcosa è cambiato qualcosa è cambiato dentro di me io non lo so più che cosa è digitale che cosa è reale sinceramente in breve diciamo per fare un po' una panoramica del pro e del contro relativi al web e della tecnologia io sposo un po' quest'idea il web non è diverso dall'umanità che è fatta di cose orribili e altre meravigliose chi accusa il web di avere un lato scuro dovrebbe riflettere sul fatto che quel lato scuro è nell'umanità stessa quindi in ogni caso è un buon segno della maturità di internet il fatto che la gente si faccia delle domande sugli effetti del web la domanda quindi è è possibile un equilibrio quindi poter mantenere la capacità di attenzione allo stesso tempo utilizzare la tecnologia e cogliere i benefici ovviamente per me la risposta è sì e a questo e a questo diciamo in questa direzione penso che il minimalismo digitale sia un alleato per esempio il minimalismo digitale è una filosofia d'uso della tecnologia per scegliere criticamente quali strumenti digitali adottare partendo dall'analisi dei motivi che ci spingono a farlo e dei limiti entro cui accettiamo di farlo se manca questa introspezione continueremo a vorticare in una spirale di cyber gingile accattivanti e che ci causano dipendenza e il minimalismo digitale è molto più che una serie di regole perché è una filosofia che sottolinea l'importanza di coltivare una vita che meriti di essere vissuta e questi sono estratti dal libro appunto di Kyle Newport Il minimalismo digitale chi sposa in toto questa filosofia pensa a tre principi fondamentali il fatto che la confusione costi cara e quindi affollare il proprio tempo e ingombrare la propria attenzione con troppi dispositivi, app e servizi genera un costo complessivo negativo che vanifica i piccoli vantaggi che ogni singolo elemento fornisce Un secondo principio è quello di ottimizzare è importante quindi per ricavarne un reale beneficio è necessario riflettere con attenzione sulla modalità di utilizzo della tecnologia E poi un terzo e ultimo principio di base è quello della scelta Nel minimalismo digitale scegliere è appagante e quindi soddisfatti le persone che appunto pensano in maniera diciamo di minimalismo digitale sono persone soddisfatte per aver scelto come utilizzare le nuove tecnologie e questa soddisfazione prescinde da come decidono di usare ogni singolo strumento Ciò significa che il valore aggiunto per creare questo equilibrio tra il tecnologico e l'umano senza perdere mantenere diciamo i benefici e i costi in linea e mantenendo sempre l'uomo al centro di questo equilibrio quindi come diceva Kant l'uomo sempre come fine in questo caso la scelta è l'elemento chiave e quindi la mia proposta è quella di questa che ho tratto dalla filastroca dell'abbastanza quindi fra il poco che ne manca e il troppo che ne avanza c'è anche una via di mezzo che si chiama abbastanza e più che l'anno della crescita ci vorrebbe l'anno dell'attenzione oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere rallentare più che accelerare significa dare valore al silenzio e alla luce quindi in breve la mia idea è quella che porto qui è quella di avere prima di tutto una fornice di azione legata al meno e meglio dove riusciamo a focalizzare l'attenzione e questo grazie al tempo che riprendiamo in mano non so se avete visto il film In Time nel caso ve lo suggerisco come visione perché fa vedere in un prossimo futuro come il tempo sia la vera la valuta per cui qualsiasi cosa noi vogliamo acquistare o fare ecco bene la valuta è il tempo e nasce con noi al momento della nascita ci viene statuato un timer sul braccio ed è interessante vedere come effettivamente come spendiamo il nostro tempo è fondamentale e mi è venuto in mente a questo proposito anche quello che veniva considerato il presidente povero Mojija dove parlava del tempo di vita e quindi il tempo di vita che noi dedichiamo e come sia importante destinarlo quindi alla nostra libertà in maniera consapevole in maniera da poterlo impiegare e non né sprecare e neanche dare diciamo controllo magari anche inconsapevole a strumenti a tecnologia a dipendenze e cose di questo genere quindi in breve per ricondurre un po' e tirare un po' il filo di le fila di tutto questo discorso che come diciamo filo conduttore ha avuto quello dell'attenzione ora less is the new more cioè meno e il nuovo più e questo perché in un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti la lucidità e potere ma questo è possibile ma finché se finché il superfluo non andrà in prantumi il necessario non comparirà e quindi io spero che diciamo questa formazione anche che Michele e Stefano state portando avanti all'interno di Rinascita Digitale possa essere contributo a questa riflessione critica sull'uso della tecnologia su diciamo un nuovo anche a un nuovo pensare in tema di marketing e di comunicazione di approccio proprio al lavoro allo stile anche di comunicazione e spero anche che questo periodo di distanziamento sociale che stiamo via via superando nella sua difficoltà sia stato comunque come una goccia perché è dalle gocce che nasce una tempesta e io spero di essere stata come una minigonna quindi abbastanza corta per destare interesse ma abbastanza lunga per coprirne l'obiettivo e con questo io vi ringrazio per l'attenzione vi saluto e vi auguro buon proseguimento di rinascita digitale Michele passo di nuovo a te la parola ci sono sei stata sei stata velocissima troppo veloce aspetta non ti vedo più sai vedi non ti vedo vediamo dove devo tornare non ti vedo più Michele arrivo eh Francesco riesce a disattivare lo schermo così almeno mi vede ok mi vedi adesso mi ti vede perfetto invito il pubblico abbiamo tempo fino alle 12 abbiamo ancora una mezz'ora buona invito il pubblico a fare delle domande se ne ha nel frattempo Maria fa una considerazione dice avere una cornice di azione legata al meno è meglio il tempo che riprendiamo ma mi sono un po' incartato dice avere una cornice di azione legata al meno è meglio e il tempo che riprendiamo in mano il tempo è come valuta il tema di Momo di Michael Hand tempo dell'attenzione grazie Stefania non ho capito molto bene il commento allora io non so Momo io ricordo è un libro di una bambina mi ricordo Cassiopea c'era la pertaruga c'erano gli uomini gli uomini che rubavano il tempo non so se quello questo vago ricordo di Momo e altrimenti anche un video della Nannini che faceva che faceva Momo non so se quello se Maria vuole spiegarci meglio possiamo possiamo conversare attorno alla tematica durante il tuo speech gli utenti ci segnalavano che le slide non si vedevano al meglio però io sinceramente le vedevo bene non so quale potesse essere la problematica credo una problematica di connessione legata ad un paio di utenti che ce l'hanno segnalato tra il tempo Stefania ti stanno arrivando dei ringraziamenti da Maria e da Donatella che dicono grazie grazie Stefania e così via Stefania abbiamo ancora una mezz'oretta non stanno arrivando domande in questo momento per cui ti chiedo se hai qualche tematica che magari tra l'altro è sottovalutato e vorresti spiegare meglio approfondire meglio o qualcosa sul quale potresti andare più nel profondo per andare a riempire questa mezzoretta che ci avanza sì in realtà io ho tagliato perché avevo anche altri trailer altri esempi serie mucca viola e così via ma pensavo di non stare nei tempi quindi in realtà ho preferito a scremare quello che posso fare è per esempio prima di tutto dirvi che i video non so se nelle slide che non sono riusciti a vedere era un problema dei video cioè non sono riusciti a vedere i video oppure proprio graficamente i testi in ogni caso metterò poi a disposizione il materiale che ho proiettato e in quel caso metterò direttamente il link quindi ai video ai trailer e tutto quello che ho proiettato e come aggiunta magari potrei diciamo condividere delle fonti nel senso che quello che ho detto è un po' diciamo nel mio stile di lavoro quando mi hanno chiesto la mia biografia io l'ho riassunta come meno meglio e tempo al tempo sono le mie linee guida professionali e personali ed è un po' quello che in realtà propongo di fare nel nostro lavoro ora nel mio caso specifico mi rivolgo alla libera professione dove la possibilità di far combaciare comunque conciliare al massimo con la vita personale con quella lavorativa e secondo me un diciamo un obiettivo a cui tendere le aziende sono un'altra realtà quindi non mi sbilancio ma comunque di fondo penso che possa essere una comunque una diciamo un approccio una linea guida nel frattempo Maria Cristina ti chiede potresti contestualizzare il tema del minimalismo digitale dal punto di vista di un imprenditore barra datore di lavoro di un dipendente di uno studente di un insegnante o di un genitore ok allora dunque minimalismo digitale scusa Michele non ho sentito almeno occupiamo il tempo ok sì allora un esempio di minimalismo digitale può essere per esempio all'interno anche degli uffici l'arredo potrebbe essere un elemento c'è l'arredo il tempo l'organizzazione del tempo legato anche per esempio alle unioni o anche a tutti quei lavori che si sono sempre fatti perché si fa così però poi in realtà non portano a nessun beneficio un altro aspetto è quello per esempio dell'archivio quindi creare magari un archivio quando si è a lavoro consultabile e organizzato in maniera in cui si possa accedere a quell'archivio in maniera efficace e efficiente perché tante volte c'è un accumulo questo può capitare anche sui nostri computer nei nostri hard disk c'è un accumulo di materiale che poi di fatto non riusciamo a sfruttare e oggi con diciamo tutto il materiale di produzione continua e poi alla fine un archivio che rimane non non utilizzabile se non viene organizzato come dipendenti in realtà adesso su due piedi dipendente non so bene nel senso per me minimalismo significa anche sostenibilità per cui minimalismo significa che invece di sprecare per esempio la plastica invece della bottiglietta d'acqua potrebbe essere minimalismo il fatto di tutti i giorni andare a lavorare con la propria borraccia questi sono proprio esempi proprio della vita quotidiana ecco per quanto riguarda un genitore uno studente studente mi toccate nel vivo nel senso che a me piace molto l'ambito scuola cioè mi piace proprio la didattica ma quella didattica che ti proprio ti ti accende in qualche modo quindi in qualche modo semina magari semi che poi lì per lì non riusciamo neanche a mettere fuoco ma a fuoco ma nell'arco poi della vita sono quelli che poi germogliano per usare questa metafora per cui una didattica minimalista secondo me è quella che anche nello spiegare utilizza dei format come per esempio quello che ho fatto oggi diciamo nelle slide un po' anche quella l'idea dei format che arrivino al punto e poi grazie all'interazione della classe si possa procedere quindi è un dare un input e poi avere comunque un feedback un'interazione in maniera che non si cali dall'alto il conosciuto il sapere calato dall'alto ma si applichi quello che io diciamo considero comunicazione cioè arte dell'incontro e quindi anche diciamo come formati per lo studio per la scuola quella è un'applicazione del minimalismo per quanto riguarda il genitore io non sono un genitore ma sono una zia quindi diciamo più o meno con i bambini ho avuto modo di vedere anche il minimalismo diciamo in azione per esempio nella tipologia di gioco cioè anche il fatto di creare con quello che già abbiamo in casa dei nuovi giochi anche quello per me è minimalismo significa diciamo togliere al posto di aggiungere e poi focalizzare l'attenzione invece di disperderla per esempio in tante attività cioè è bene per esempio capire cercare di approfondire i talenti di ogni bimbo e per cui stare diciamo dare a loro la palla sono loro che ci guidano poi a capire che cosa gli può piacere e cosa no senza essere noi a dettare dall'alto la strada non so se hai risposto nel caso ditemi credo credo e spero di sì poi invito Maria e Cristina nel caso a interagire nuovamente se ha altre domande intanto ti ringrazio per cui immagino sia un un sì è risposto ok ti faccio una domanda io secondo te secondo il tuo parere personale questo questo processo cioè questa mentalità del minimalismo ha aiutato dei grandi come possiamo pensare a Steve Jobs che lo vedevamo vestito sempre nella stessa maniera e sempre muoversi con una serie di quasi ritualità che lo costrugevano a non dover pensare a determinati processi a raggiungere gli obiettivi che ha raggiunto beh sì nel senso che allora il discorso è un po' questo cioè il minimalismo digitale fa sì che si raggiunga la semplicità e quindi è un fatto proprio di focalizzazione nel momento in cui noi focalizziamo l'attenzione viene fuori l'essenza e l'essenza è quello che poi ci contraddistingue sia diciamo a livello umano ma sia a livello lavorativo è un po' la risposta al appunto perché dovrebbero sceglierci tra tanti il fatto che ognuno abbia un proprio talento un proprio valore aggiunto un proprio diciamo delle proprie capacità ognuno con la propria unicità quell'aspetto lì anche nel lavoro viene fuori e viene poi fuori anche nella grafica perché nel caso di Steve Jobs abbiamo visto sia a livello diciamo di grafica minimalista che lo ha utilizzato cioè non è un diciamo un fiocchetto o un'etichetta da dare è proprio uno stile di vita che permette veramente di mettere a fuoco e di mettere in luce quello che secondo ognuno conta e questo poi fa sì che ci si incontri con persone con cui sposiamo diciamo questo stesso approccio ecco sì sì tu hai menzionato il tema della comunicazione e credo che sia molto importante dal punto di vista della comunicazione focalizzarsi come dicevi tu e rimanere in qualche qual modo minimalisti senza andare a realizzare dei costrutti giganteschi al quale poi magari non riusciamo neanche a stare dietro e a dare seguito per cui anche nella comunicazione nello sviluppo di un brand nella personal branding in qualsiasi settore comunque è molto importante diciamo come dicevi tu il poco che è meglio per cui focalizzarsi su quelle cose che riteniamo importanti e avere delle basi su quale appoggiarci di giorno in giorno rimanendo fissi su quei concetti e come inzionare la comunicazione fatta da Steve Jobs e dall'Apple in generale io la trovo la trovo fantastica perché se guardiamo i loro spot se guardiamo il modo in cui si sono sempre mossi sono video sono comunicazioni sono grafiche sono cose semplicissime ma che nella loro semplicità nascondono dietro poi dopo un mondo e questa proprio semplicità ti aiuta anche ad approcciarti a questo mondo stesso anche graficamente c'è anche proprio nella grafica tu parla adesso di brand di discorso di personal premium anche nella grafica sia i libri professionisti ma anche a livello aziendale quella pulizia grafica è anche quello segnale di minimismo digitale cioè nel momento in cui mettiamo a fuoco le nostre caratteristiche a volte possono essere anche proprio molto personali c'è un imprenditore di cui appunto si diceva prima un imprenditore che ha un tema che sposa un tema oppure ha una passione può farla venire fuori all'interno del lavoro anche graficamente per cui una pulizia una grafica pulita anche non so probabilmente anche voi avrete visto magari slide molto fitte quando andiamo alle conferenze o molto pieno di materiale molto pieno di immagini ecco lì è un esempio di come alla fine la comunicazione poi non riesca ad avvenire perché con tanto affollamento in realtà poi l'appunto torniamo al discorso della distrazione cioè si disperde la nostra attenzione e non riesce a mettere a fuoco poi nulla e quindi rimane poi poco se non nulla noi poi noi dietro l'inascimento digitale alla base siamo possiamo definirci un'agenzia anche se non ci piace definirci un'agenzia che si occupa proprio di digital strategy di comunicazione digitale di marketing online e così via e porto l'esempio di un cliente che abbiamo avuto e che tuttora abbiamo con il quale ci siamo seduti al tavolo e abbiamo deciso di individuare dieci valori senza il quale il loro brand non esistesse tutta quanta la comunicazione da sei mesi a questa parte abbiamo deciso di basarla su questi dieci concetti semplicissimi che secondo noi erano alla base del prodotto che loro poi andavano a vendere senza il quale questo prodotto probabilmente non sarebbe stato quello che è senza il quale questo prodotto probabilmente non esisterà bene anche e per cui abbiamo deciso di focalizzarci e stringerci quasi tanto su questi dieci temi proprio per andare verso una comunicazione che fosse più diretta e una comunicazione che fosse più mirata possibile e allo stesso modo semplice e intuibile con il quale trasfare la vera essenza di quello che è il prodotto il brand o qualsiasi cosa che tu voglia comunicare per cui mi ci ritrovo nuovamente all'interno delle tue parole perché ovviamente è un pochettino alla base di tutto quello che è all'online cercare di capire cosa si è realmente soprattutto quando si va su internet ci si butta in un mondo in un marasma dove chiunque è uguale e diverso da te e trovare dei punti che ti identificano e da portare come costante all'interno di un percorso digitale e credo che sia fondamentale per darsi e crearsi un'identità che sia riconoscibile sia da te stesso come brand come persona sia da il possibile cliente o comunque la persona che ti segue sì poi nel tip stock la scorsa volta facevo proprio questo esempio cioè il punto è che l'idea di focalizzare l'attenzione sulla mucca viola diciamo nel mio procedere del lavoro è proprio quello di mettere a fuoco l'essenziale cioè quello che proprio ci contraddistingue e poi su questa base possiamo far diciamo discendere tutto il resto per cui anche il piano di comunicazione è la traduzione della mucca viola quindi è la traduzione nella scelta delle immagini è la traduzione nella scelta degli strumenti è la traduzione grafica a livello proprio anche di immagine coordinata quindi è proprio il sine qua non diciamo la fonte il punto di partenza il punto di arrivo la mucca viola quindi sì concordo con questo procedimento dei valori che avete fatto con questo cliente sì come dicevi tu poi ho ovviamente trovati determinati valori ci sono mille declinazioni su quale uno può andare l'importante essere ben focalizzati su quello che si vuole trasmettere per cui sapere qual è il messaggio alla base sul quale ti fondi e sul quale vuoi muoverti nel frattempo comunque è arrivata una domanda dal pubblico di Alessandra che chiede potresti fare qualche ulteriore approfondimento sul tema della netiquette sì allora la netiquette allora nasce non è una legge di per sé quindi sono cioè un insieme di linee guida per usare la tecnologia in genere la tecnologia web e il web nel senso più stretto cioè quindi la comunicazione per esempio tramite mail all'interno di questo documento che nel tipstalk avevo avevo inserito il QR che porta all'originale ma se digitate IETF quindi la comunità internazionale e netiquette potete consultare per intero tutto il documento che viene condiviso e è costruito come tipo un bollettino per cui è possibile anche adattarlo all'interno di ogni azienda ogni azienda ogni corporazione ogni diciamo ogni ente l'idea è quello di avere una comunicazione che sia proficua e quindi che diciamo riduca gli equivoci almeno possibile riduca ecco al minore numero possibile gli equivoci e permetta per esempio nel no mail la compilazione dell'oggetto la scrittura senza maiuscoli questo è già per esempio la missa in pratica di alcune linee guida di netiquette oppure un altro un altro esempio nell'altro ambito è i classici post oppure commenti ai post o ai giornali dove c'è quell'expeach quindi linguaggio d'odio ecco la netiquette per esempio scoraggia assolutamente il linguaggio d'odio c'è Crozza che in alcuni suoi video su Napalm fa questi esempi noi leoni da tastiera ecco praticamente quello è il contrario dell'anetiquette l'altro aspetto sono le flame sempre nei commenti quindi oltre a un discorso del linguaggio d'odio è proprio quello di creare a volte anche quei post provocatori volontariamente provocatori o commenti volontariamente provocatori che fanno a partire poi una sorta di conflitto online per cui è una botta e risposta che non sa di nulla o meglio non è nutriente e cade proprio nella sterilità proprio dove la comunicazione viene annullata questo è un altro esempio e si sposa anche bene con il discorso della privacy la netiquette perché si parla di un discorso di dati cioè di protezione dei dati in qualità di meno e meglio cioè si è scritto proprio scrivi come in una cartolina e quindi c'è questa riduzione dei dati che scriviamo che pubblichiamo che condividiamo online anche nell'ottica del discorso sia della velocità con cui poi questi contenuti si diffondono e sia dell'archiviazione perché nel momento in cui pubblichiamo online quello rimane poi un archivio senza tempo poi sì c'è il discorso sulla legge e sull'obbrio però comunque perdiamo un po' il controllo quindi anche in quel caso la netiquette sposa questa idea del meno e meglio e non so se ho risposto se magari vogliono più esempi potete potete dirmi nel frattempo io posso fare una costilla legato al mondo diciamo scuola dove io la netiquette l'applico anche al cyberbullismo come prevenzione cioè nel momento in cui noi online non pubblichiamo di tutto e di più e la qualunque nel momento in cui non scriviamo con questo linguaggio d'odio tutta una serie di casi che poi abbiamo visto nella cronaca quotidiana si potevano editare poi certo è legato a un discorso di identità digitale di identità informazione quindi poi va a toccare diciamo aspetti anche psicologici bisogno di appartenenza di comunità quindi va poi a toccare anche aspetti più profondi ma se presa come linea guida la netiquette argina a monte la fuoriuscita di contenuti che possono nuocere comunque alle persone o alla dignità della persona ti faccio una domanda poi ti invito magari a mettere il link o mettere il nome di questo documento che hai menzionato all'interno della chat così che magari gli utenti che vogliono approfondire possono farlo la domanda che voglio io è nel momento in cui questa netiquette è in franta cioè nel momento in cui uno scrive commenti negativi se così possiamo definirli o dice fa qualcosa che diciamo nella netiquette va un po' contro questa netiquette come possiamo reagire come possiamo rispondere come possiamo far sì che questo processo vada a stopparsi e invece che alimentarlo magari commentando andando contro all'opinione di qualcuno che ti stava insultando o robe del genere sì allora tante volte diciamo nei commenti nei post uno diciamo delle strade più efficace è quello di non rispondere più cioè nel senso avete presente caro Lina Picchio quella ragazzina di 14 anni che si è suicidata in seguito alla diffusione di un video che non ho fatto ecco cioè oltre il fatto di per sé quindi la gravità di quello che è successo e di questa ragazzina il punto è tutto quello che si è scatenato cioè il continuo a reinviare il video continuare a commentare quindi a monte nel momento in cui avvengono queste queste dinamiche la prima cosa è so farle cioè io in prima persona smetto di ricondividere io in prima persona smetto di rispondere di scrivere di fomentare quindi quello che si può fare è questo poi nello specifico di diciamo commenti insulti che possono andare anche soprattutto magari nei confronti dei minori cioè dei minori sopra i 14 ma sotto i 15 18 anni ci sono anche una serie di app c'è anche un modulo del garante privacy che va a tutelare per diciamo una sorta di denuncia del fatto compiuto quindi poi ci sono anche delle c'è anche una legge di riferimento sul cyberbullismo quindi diciamo su questa parte c'è anche una una sorta di normativa e legislazione che si è andata a occupare nello specifico di tutti i giorni dove appunto possiamo trovare un commento sui social o sui giornali sui commenti online su dei giornali in quel caso diciamo la migliore risposta è la mancata risposta o come si dice in giornalismo che la notizia è data due volte c'è un'errata corrige come fare due volte la stessa notizia ecco quindi nel caso dei post dei commenti la soluzione migliore è abbandonare il campo cioè proprio evitare e poi ognuno lo facesse il problema è risolto Alessandra chiede proprio il link al documento per poterti informare allora lo trovate lo facciamo così io lo posso dare il nome non so cosa preferisci se lo inviti in chat ricordati di mettere come destinatario sia tutti quanti i panelist ma anche gli attendisi ok allora l'ho cercato adesso qui in chat va bene qui all panelist se fai all panelist and attendees ok ecco il link della netiquette questa è in versione voilà l'ho ricevuto tutti quanti anche gli utenti le sorte del genere sì 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 l'ho inviato adesso lo vedono ok allora in questo caso qui la versione è quella in inglese ma ho visto che online di recente hanno anche inserito una traduzione per cui è possibile anche consultarla in italiano e quello che viene diciamo precisato proprio dal gruppo che ha creato l'netiquette è il fatto che sia un documento di riferimento diciamo implementabile per cui possiamo togliere aggiungere degli aspetti cioè delle parti approfondire delle altri proprio perché il contesto poi di comunicazione fa sì che ogni voce prenda un peso diverso assolutamente sì dimmi no niente stavi dicendo qualcosa o a livello tecnico fa anche un esempio c'è esempi sul discorso del download sul fatto che anche caricare tanto materiale online possa essere diciamo una violazione dell'netiquette perché l'idea è quello di non consumare risorse preziose anche in temi di spazio e quindi per esempio una procedura una linea guida è quella di linkare e non linkare il possibile e non caricare i contenuti dove non necessario quindi diciamo che l'etiquette per chiudere un po' diciamo il discorso fa attenzione sia a modalità di comunicazione online quindi dai social ai wiki alle mail anche di lavoro quindi una modalità professionale in maniera che oggetto firma sia tutto ben chiaro non ci sono maiuscoli si scoraggiano le catene di Sant'Antonio quindi utilizzo anche della rete come proprio spazio quindi diciamo più tecnico quindi questo è un po' il tutto di due aspetti Fabrizio ti chiede se hai inviato il link della piattaforma chiudia paglia.it non so se lo conosci no non lo conosco non credo sia stato lanciato nell'ultimo periodo o almeno io l'ho visto l'ho visto girare nell'ultimo periodo è una piattaforma dove proprio si vanno a raccogliere tutti questi episodi questi episodi diciamo poco piacevoli online e viene definita la prima piattaforma Legal Tech in grado di fornire assistenza legale a tutte le vittime di odio online chiedeva se questo tipo di piattaforma si lega al discorso che tu hai fatto o meno allora può avere a che fare nel senso che sicuramente l'idea è quella di aiutare chi è vittima di odio però a me non piacciono i toni posso dirlo cioè nel senso che il fatto già di dire chi odia paga è già una violazione dell'anitichetta cioè il fatto di del late speech del flame di non creare flame questo nome io la prima volta che l'ho visto infatti ho avuto un pochettino questa sensazione nonostante magari comunque tutti quanti gli intenti pacifici e diciamo buoni che una piattaforma come questa può avere questo nome mi ha colpito molto poi non so se è stata anche questa una scelta comunicativa proprio per colpire in questo modo o sia stato uno uno sbaglio comunicativo alla base quando ho visto questo nome la prima volta ho detto cavi però diciamo vai a difendere vittime di odio e lo fai minacciando chi si si la minaccia stessa e odio per cui sì nel senso che comunque è come dire predicare bene e razionare male cioè nel senso anche lo stesso linguaggio è portatore di le scelte delle parole la scelta del nostro linguaggio è portatore di messaggi che magari anche se non verbali vengono diciamo si irradiano e si irraggiano quindi in qualche modo il fatto di di inserire già parole così negative ecco che rimandano all'odio non lo vede in sintonia con l'anetichetta anche se magari di fondo il fatto di assistere persone vittime di odio online può essere magari un obiettivo comune ecco magari la modalità potrebbe no? perché da dove parte l'azione è abbastanza centrale ecco assolutamente sicuramente la piattaforma che inviterà tantissime persone la piattaforma con con insomma un motivo di esistere molto molto forte è fantastica però appunto su questo messaggio nascosto dietro al nome ci sarebbe molto probabilmente da discutere comunque grazie perché non lo conoscevo quindi lo andrò a cercare andrò a visitare grazie sicuramente non ho approfondito troppo ma mi sembra di aver visto qualcosa magari forse anche in televisione così a ricordo Stefania siamo arrivati al termine dell'ora ce l'abbiamo fatta la prossima volta metterò più slide io le ho tolte ma è un errore molto comune ci capita spesso che comunque sembra così ma fare speech online è difficile è quasi mi viene da dire è quasi più difficile che farlo in un punto in un punto fisico perché non vedi le persone che ti stanno di fronte sai che magari ci sono 100 200 300 persone in fronte a te ma non vedi le loro facce le loro reazioni e anche diciamo nella gestione del tempo questa cosa influisce molto e spesso voglio andare troppo lungo andare troppo corti a seconda sono sentita di andare troppo corta la prossima volta siamo sicuri che non taglierai le slide va bene Stefania ti ringrazio per essere stata qui con noi per aver portato i tuoi contenuti e per averci fatto compagnia durante questa retta in Arena Straditale grazie anche a te e a voi tutti per l'attenzione grazie mille straditale straditale Grazie a tutti.